Vi aspettavate questa vittoria? Guarda, negli ultimi giorni sinceramente la speranza era cresciuta, inizialmente no, era quasi partita per gioco e poi invece la cosa si è fatta seria ed è andata come speravamo. Che cosa è stato determinante? Ma guarda, secondo me al di là del programma della lista quello che ha fatto la differenza è il desiderio della gente di cambiare, di provare un modo di amministrare diverso dal passato, staccato dai partiti, dalla regione, un modo di amministrare fatto dai cittadini semplici, comuni, non politici, quindi questo secondo me è stato l'elemento determinante. Il nostro vero obiettivo, ribadisco, è quello di impostare una gestione diversa del comune, che sia condivisa con i cittadini, che sia trasparente, corretta, che non abbia conflitti di interessi, non sia legata ai dettami del partito, delle regioni, quindi tutto finalizzato al cittadino che anzi cercheremo di coinvolgere ancora di più adesso che saremo noi di amministrare il comune di quanto non abbiamo fatto finora in campagna elettorale. Obiettivi che quindi comprendono, immagino, anche il tema della sanità, molto sentito dai cittadini? Assolutamente, noi a Fossombrone abbiamo un grosso problema della sanità che riguarda appunto un ospedale che ci è stato praticamente chiuso dalla riforma regionale, con l'avallo della precedente amministrazione, quindi noi ci batteremo cercando di riuscire a salvare almeno il salvabile, quindi questo è il nostro impegno, l'abbiamo reclamizzato molto in campagna elettorale, ci puntiamo molto. Sappiamo che le competenze sono regionali, non è facile, però come comune faremo tutto il possibile per mantenere almeno un minimo di dignità al nostro ospedale. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi.